Bentornati amici nella mia cucina, oggi per la rubrica sto a casa e mangio bene vi voglio preparare una rivisitazione una rivisitazione che nasce dalla necessità degli ingredienti che ho a disposizione in frigorifero avevo qualche zucchina e poco altro e mi è venuta in mente una ricetta l'ho intitolata perdonami norma perché rivisiterò un grande classico della cucina siciliana che ovviamente va sempre toccato con i guanti per l'appunto però sono convinto che ne verrà fuori una ricetta facile, veloce, simpatica e buona e adattissima per la pausa pranzo subito, visto che questa è la parte più lunga, ho acqua che bolle vado a salarla e aggiungo in cottura immediatamente i miei paccheri poi mi sono portato già dell'olio a temperatura, qui ho delle zucchine già precedentemente lavate vado a togliere la parte di testa e di coda e poi facendo scorrere la lama sul fianco e facendo girare poi la zucchina in questo modo ne vado a ricavare delle fette senza utilizzare la parte centrale che è più spugnosa anche un po' più amara e non fa al caso nostro rifaccio la stessa cosa con questa è un procedimento molto semplice da fare e anche molto veloce poi vado a tagliare tutte le fette che ho ottenuto a metà magari la prima che è sempre la più grande posso tagliarla anche in tre e ne vado a fare dei cubetti scusate ecco qua uno e faccio lo stesso con l'altro cerco di mantenere più o meno lo stesso calibro perché questo naturalmente mi aiuterà in cottura ora vado a verificare l'olio è ancora un po' presto però direi che possiamo già cominciare e un po' alla volta vado a mettere in frittura così senza niente altro le mie zucchine le faccio un po' per volta intanto che queste friggono cominciamo a preparare la salsa do anche magari una girata alla pasta così propiziatoria per così dire quindi prendo un filo d'olio uno spicchio d'aglio in camicia accendo sotto il fuoco la padella tolgo la parte più amara gli do un colpetto e lo metto a soffreggere ok ci metto dentro due foglie di menta che poi andrò a togliere mi servono solo per dare profumo con le zucchine la menta sta molto bene quindi utilizzo questa erba aromatica perché funziona molto bene e porto a soffritto l'olio con la menta controllo le mie zucchine che stanno friggendo benissimo perfetto le teniamo qui l'olio comincia ad andare in temperatura qua ho della guardate della passata di pomodoro che avevo in casa di pomodorino pizzuto del visubio ok mi do una ciaccatina così giusto per e lo metto in padella la non voglio che i pezzi siano troppo piccoli quindi li lascerò un po' nella loro forma intanto ho ancora una giratina alla pasta che non faremo cuocere completamente nell'acqua ma che un po' servirà prendo una padellina così ho tutti i fuochi belli pieni do appena un giro d'olio e mi prendo dei pinoli una variante che con la norma c'entra poco ma li avevo e mi sembra che stiano bene quindi ce li voglio mettere ne metto un po' e li faccio leggermente costare magari con un pizzico di sale intanto qui ho una teglietta con la quale appena le zucchine saranno pronte manca ancora un po' ne andremo a scolare abbiamo tutto sul fuoco adesso ci dobbiamo solamente prendere cura delle cose che abbiamo messo a cuocere siete d'accordo? ci vediamo qui fra 5-6 minuti il tempo che tutto termini e finiamo insieme la ricetta a dopo eccoci bentornati allora facciamo un po' il punto della situazione abbiamo i pinoli che hanno tostato le zucchine che sono state fritte e la pasta che ha raggiunto il grado di precottura corretta ora assembliamo il sugo subito un pizzico di sale non troppo perché questi sono pomodori in conserva hanno già la loro sapidità e del pepe abbassiamo un po' il calore deve sobollire poi vado a togliere l'aglio che ormai ha dato e anche le foglie di menta che in questo caso non mi servono più hanno profumato già il sugo e hanno fatto il loro lavoro ecco qua poi aggiungo le zucchine tutte quante aggiungo i pinoli magari non tutti non vorrei sbilanciarlo troppo ancora un po' e vado ad aggiungere la pasta semicotta porto temperatura altissima al massimo prendo un mestolo d'acqua di cottura e comincio a far mantecare la pasta con questo liquido arriverò a cottura finale della pasta mi dispiace che non possiate sentire il profumo ma la padella mi sta dando profumi di menta di pomodoro adesso la assaggio anche per capire se siamo giusti di sale è valentissimo il profumo vedete la pasta comincia a glassare la salsa cioè volevo dire la salsa comincia a glassare la pasta sta diventando veramente golosa abbiamo bisogno ancora di qualche minuto per asciugarla bene intanto vi volevo ricordare mi raccomando ditemi sempre che cosa ne pensate delle ricette se sono fattibili se vi piacciono se vi sembrano adatte allo scopo per cui le sto pensando insomma fatemi sapere come va siamo obbligatoriamente tutti chiusi in casa e abbiamo tanto tempo per sperimentare io devo dire che nella difficoltà di questo momento sto cucinando tanto e mi sto divertendo anche a farlo intanto finché attendo la mantecatura non le voglio togliere tutte perché hanno una bella consistenza in bocca però qualche pellicina del pomodoro posso anche toglierla ecco va mancano veramente pochissimi minuti ancora vedete questo ultimo passaggio dalla cottura prima in acqua e poi in padella è fondamentale non portate mai in nessun caso la pasta a cottura completamente in acqua bollente lasciate sempre gli ultimi 5 minuti in padella perché rilascerà quella parte di amido che andrà a legare tutte le vostre salse e i vostri sugli in questa maniera potrete ridurre notevolmente l'uso dei grassi se avete fatto caso in questa ricetta c'è un filo d'olio nel pomodoro e nient'altro ecco la salsa è sufficientemente ridotta e posso impiattare il tutto prendo il cucchiaio faccio cadere del sugo dentro i paccheri sopra un bel giro d'olio e infine una norma non è una norma senza una generosissima grattata di ricotta salata mettetene pure in abbondanza una sistemata al piatto ancora un giro d'olio per finire e la mia perdonami norma è pronta per voi avete visto un piatto veloce semplice leggero gustosissimo adatto per tutte le stagioni voglio dire ma in particolare per la primavera che sta arrivando è perfetto per un'ottima pausa pranzo e se mangiate bene in pausa pranzo il resto della giornata è tutto in discesa alla prossima e la mia rivisitazione della norma perdonami norma così si chiama il piatto è pronta e volevo ricordarvi che se anche siamo lontani teatro 7 è sempre vicino a voi alla prossima